Giampiero Nuzzo resta saldo alla guida del comune di Casella in Pittari. Mi dispiace di non aver avuto avversari perché la competizione è sempre un motivo di crescita, però questa riconferma mi rende felice perché ci consentirà di portare avanti i progetti intrapresi a partire dai tre recenti che ci sono stati finanziati, uno dei quali servirà a tutelare il territorio dal rischio idrogeologico. Nuzzo poco dopo le 12 di domenica mattina si è giudicata la sfida contro il quorum e la quarta fascia tricolore la indossa dal 2004, solo dal 2014 al 2019 la dovette cedere al suo delfino Maurizio Tancredi di cui fu vice, medico di base e da sempre appassionato della politica, una carriera iniziata a 20 anni con il movimento sociale italiano e oggi è nel direttivo regionale campano di Fratelli d'Italia. Con la passione di sempre precisa proseguirò a lavorare nell'interesse della mia comunità con trasparenza e partecipazione. Dal 1999 è la seconda volta che Casella Impitta ripresenta per le elezioni amministrative una sola lista, allora a correre da solo fu Romeo Esposito che per questa campagna elettorale ha provato a candidare il figlio. Per garantirmi senza alcun rischio l'elezione, dice Nuzzo, avrei potuto presentare una lista civetta ma ho grande rispetto degli elettori ed insieme all'intera squadra abbiamo deciso di non abbandonarci a questi giochi e di farci giudicare per il lavoro che abbiamo svolto. Insieme a Nuzzo entrano in consiglio comunale tutti e dieci i candidati e consiglieri. Giuseppe Costa, Daniela Ettore, Gerardo Gallo, Ivan Annicodemo, Rosanna Pellegrino, Giuseppe Pisano, Gianluca Ragone, Stella Salomone, Michele Speranza e Domenico Torre.